Elezioni politiche ore febbrili ma per i candidati bratesi la strada è in salita. Argenius diventa scuola paritaria ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione. Sport consegnati riconoscimenti alla società e agli atleti bratesi che si sono distinti nella passata stagione. E' una buona giornata dalla redazione di TV Prato, ben trovati ad un nuovo appuntamento con il nostro Tg del Giorno. In apertura le elezioni politiche perché sono ore febbrili nei vari partiti ma per i candidati bratesi la strada è in salita. Collegi più ampi e taglio dei parlamentari rendono infatti tutt'altro che scontata l'elezione di un bratese nel prossimo Parlamento. Prima le idee per Prato da portare a Roma, subito dopo i nomi dei candidati. Sono ore frenetiche nel Partito Democratico. Ieri sera si è riunita la Sereteria Provinciale che ha affrontato la questione della rosa di candidati nei collegi uninominali e plurinominali, dai tre ai cinque nomi, che Prato dovrà indicare alla Sereteria Regionale del Partito, come richiesto dai vertici nazionali del PD a tutte le federazioni locali. I nomi saranno ufficializzati sabato. Al momento i più accreditati sono la consigliera regionale Ilaria Bugetti, l'assessore Benedetta Squittieri e Simone Faggi, ex vicesindaco e braccio destro del primo cittadino Matteo Biffoni. Domani intanto il PD pratese illustrerà il documento programmatico che da Prato sarà indirizzato ai vertici nazionali del Partito, guidato da Enrico Letta. Stavolta l'elezione di un pratese a Roma è tutt'altro che scontata, visto il taglio dei parlamentari e il complesso meccanismo dei collegi, più ampi rispetto al passato, che nel caso di Prato comprendono anche il territorio pistoiese del Mugello. Se si considera che la Toscana continua ad essere una delle roccaforti del PD, è forte il rischio che le posizioni, per così dire più sicure, siano a pannaggio dei big nazionali e a discapito dei territori. Anche nel centro-destra il puzzle delle candidature è tutto da comporre o quasi. In Fratelli d'Italia si fa avanti l'ipotesi di una ricandidatura del senatore uscente Patrizio Lapietra. Giorni di fermento anche nella Lega in Forza Italia, con la deputata pratese Erika Mazzetti, che ha giurato fedeltà al partito di Berlusconi, alle prese con una serie di illustre dimissioni. Mentre Giorgio Silli, braccio destro di Giovanni Toti, di Italia al centro, contattato dalla nostra redazione, ha risposto con un laconico «Ci vuole pazienza». Insomma, la partita delle candidature si deciderà nei prossimi giorni. E passiamo ora alla cronaca. Ha rubato dei prodotti in un supermercato, ma la sua fuga è stata bloccata da una guardia giurata della Prato Pol. È successo ieri sera, poco dopo le ore 20, nella zona di Via del Gelso. L'intervento è scattato quando è suonato l'allarme antifurto della Prato Auto. Pronto l'intervento di una pattuglia della Prato Pol, che ha sorpreso il ladro. L'uomo, infatti, si era introdotto nel concessionario, un deposito di auto all'aperto, facendo scattare l'allarme. Il tentativo di fuga del malvivente è stato sventato dall'arrivo della guardia giurata, che lo ha bloccato. Sul posto è intervenuta anche un'altra pattuglia della Prato Pol in supporto del collega, in attesa dell'arrivo dei carabinieri. L'individuo aveva con sé uno zaino pieno di prodotti che poco prima aveva rubato in un supermercato della zona. E voltiamo pagina per parlare di scuola. L'istituto primario bilingue Ars Genius diventa scuola paritaria. E intanto aumentano le iscrizioni all'infanzia e alla primaria con il raggiungimento dell'obiettivo di avere in ugual numero studenti italiani ed orientali. Ars Genius, il primo istituto primario bilingue di Prato, nonché scuola dell'infanzia, ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione come scuola paritaria. La pratica era iniziata a marzo, seguendo tutto l'iter burocratico di legge e proprio in questi giorni è arrivata dal Ministero la risposta positiva. I dirigenti di Ars Genius hanno dovuto fornire ai tecnici ministeriali il regolamento di istituto, il progetto educativo, l'elenco degli insegnanti, ognuno con un adeguato titolo di studio e abilitativo, e poi la parte burocratica relativa alle normative antincendio, sicurezza nei luoghi di lavoro e sismica. La documentazione ha ottenuto l'approvazione totale da parte del Ministero, che ha ritenuto conformi anche tutti gli arredi scolastici. È un punto di partenza molto importante per noi, perché questo vuol dire che comunque i nostri ragazzi potranno studiare qui e il loro studio è comunque riconosciuto in tutta Italia. E questo crea delle prospettive perché ci permette a questo punto di avviare un percorso che abbiamo pensato da tanto tempo e che si sta concretizzando, che è un percorso bilingue. Intanto le iscrizioni ad Ars Genius sono in crescita. Da settembre la scuola avrà tutte le classi, sia dell'infanzia che della primaria, per un totale di oltre 150 ragazzi. Da sottolineare anche come la comunità italiana abbia iniziato a sposare sensibilmente il metodo bilingue di Ars Genius, con insegnamento di italiano, inglese e cinese. Se quest'anno in maggioranza c'erano studenti orientali, da settembre la scuola vivrà una totale integrazione fra alunni provenienti da ogni parte del mondo. È importantissimo che insieme alla lingua venga presentata anche quella che è la cultura del paese d'origine, altrimenti si rischia che una persona sappia parlare benissimo una lingua ma non sappia poi utilizzarla nel modo corretto nel momento in cui si trova in situazione. E quindi è possibile fare grossi pasticci. E spazio adesso alla cultura. Dal 31 luglio, ogni ultima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente tutte le mostre in corso al Centro Pecci. Sarà l'occasione per dedicare una giornata all'arte contemporanea, alla scoperta di nuovi linguaggi e visioni di artisti e artisti da tutto il mondo. L'esposizione Schema 50, una galleria fra le neo-vanguardie 1972-1994, presenta attraverso opere originali e documenti d'archivio uno spazio di ricerca che si è contraddistinto per audaci proposte espositive di rinnovamento artistico. In corso anche la mostra L'arte e la città, che presenta una panoramica inesplorata dei rapporti fra arte contemporanea e ambiente urbano. E passiamo adesso allo sport, perché sono state premiate ieri sera le eccellenze pratesi, i particolari nel servizio di Massimiliano Masi. Ecco le eccellenze sportive pratesi. A Giardino Bonamici l'amministrazione comunale ha voluto premiare atleti e società che si sono distinti nelle varie discipline sportive nella stagione appena conclusa. È stata una vera e propria parata di stelle. Prato sa fare sport, le eccellenze pratesi. Penso che sia doveroso da parte dell'amministrazione, chiunque ci sia a amministrare questa città, stare vicino e riconoscere il movimento sportivo pratese e quello che nonostante tutte le difficoltà che tutti i giorni ne parliamo, abbiamo, viene scritto, riesce tutti gli anni veramente a tirare fuori. Eccellenze a livello nazionale, veramente un'officina di atleti di un livello alto è Prato. Tra i premiati per il nuoto l'atleta dell'Azzurra Lucrezia Domina e le ragazze della futura nuoto campionese italiane nel sincro. Per il tennis il tennis club Prato, per il nuoto Laura Nuti della Polisportiva Amatori Prato, per il basket Luca Magni, campione europeo over 60 e Giulia Sautariello, campionessa europea con la nazionale italiana sordi. Per il judo Elena Guarducci, campionessa italiana nella categoria 44 kg. Per l'hockey pista i veterani Prato 1954, per il tennis tavolo le ragazze della chat e per la palla a mano le ragazze della tush. Per la palla a volo Alberto Caselli della nazionale italiana sordi. Per i giovani talenti premiati Riccardo Giacchin, Andrea Giacchin e Damiano Vitti, campioni d'Italia di football americano con i Guelfi Firenze. Per il rugby i giovani Gianmarco Magni, Matteo Morelli e Lorenzo Pani dei Cavalieri Union Sesto. Premiati ma non presenti perché impegnati ancora in attività agonistica, Lorenzo Bruni, protagonista con il settebello di palla a nuoto, il tiratore con l'arco Daniele Cassani e il pugile Lorenzo Esposito. Questa città si conferma una città d'altissima vocazione sportiva, capace non solo di organizzare, fare e di avere società che mettono a terra tantissimi eventi e tantissima qualità, ma anche atleti che poi interpretano queste discipline in maniera assolutamente importante e riuscendo a raggiungere risultati importanti. Prato, insomma, sa fare sport. Ed è arrivato adesso il momento del meteo. Scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore con le previsioni a cura del Consorzio Lama. Salve, un caro saluto, ben ritrovati con il Consorzio Appuntamento Meteo offerto dal Consorzio Lama. Andiamo a dare uno sguardo alla situazione in atto e a come si evolverà nelle prossime ore e nelle prossime giornate. Attualmente vediamo ancora la presenza di un campo di alta pressione che interessa e protegge gran parte del Mediterraneo, centro-meridionale, buona parte della penisola. Le perturbazioni atlantiche, i fronti temporali che continuano a transitare sull'Europa continentale spingendosi temporaneamente anche a interessare l'arco alpino. Una situazione questa che si manterrà più o meno stazionaria anche per i prossimi giorni. Andiamo a vedere nel pomeriggio di oggi cosa ci attende. Ci attende un pomeriggio sostanzialmente soleggiato in linea con quello che abbiamo vissuto anche nei giorni scorsi e avremo la possibilità dello sviluppo di qualche modesto addensamento nelle ore più calde della giornata. Sulle zone interne si tratta di nubi che potrebbero anche dar luogo qua e là a isolati occasionali brevi temporali estivi ma sono fenomeni di scarso rilievo. I venti sono deboli occidentali, poco mossi male le temperature, lo vedete, stazionarie. E ancora con punte fino a oltre i 35 gradi, siamo ancora a 2-4 gradi sopra le medie. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta poche le variazioni. Cielo sostanzialmente sereno al mattino con temperature in linea con quelle di questa notte appena trascorsa. Quindi valori fino a oltre i 20 gradi sulle zone interne, ancora notti quindi tropicali, cosiddette tropicali. Per quanto riguarda poi l'evoluzione della giornata, nel pomeriggio ci attendiamo lo sviluppo di qualche nube consueta in questo periodo sulle zone interne, e nubi che potrebbero ancora una volta dar logo qua e là a qualche isolato e breve rovescio temporalesco. Venti in temporaneo rinforzo occidentali o di maestrale in maremma. Le temperature, lo vedete, tra i 35 e i 37 gradi le massime. Bene, con questo direi che è davvero tutto. Vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. E con il meteo termina il nostro Tg del giorno di oggi, ma la programmazione di TV Prato prosegue. Vi ricordiamo alle 17 in diretta dal Duomo la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa. L'informazione di TV Prato torna invece alle 20 e 30 con il Tg della Sera e intatto tutti gli aggiornamenti come sempre li trovate sul nostro sito web tvprato.it Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.